... della scuola e ho il piacere di avervi qui in un giorno particolarmente importante per noi perché è la conferenza iniziale, l'evento iniziale di un programma di, come si dice, outreach, cioè divulgazione scientifica che la scuola da oggi intende promuovere e nel futuro sviluppare. E quindi VIS, questo è il nome del progetto, che si chiama Immersioni Virtuali nella Scienza o Virtual Immersion in Science in inglese e che è strutturato in una serie di attività, in particolare di due tipi. Una sono le conferenze pubbliche, come quella che ascolteremo oggi dal professor Rolandi e l'altra sono una serie di visite mirate sia alle scuole che al pubblico generico, che fanno uso di un sistema multimediale immersivo in tre dimensioni che si chiama CAVE, a cui potete liberamente partecipare via prenotazione e avete tutte le informazioni al sito che vedete qui, non ho tempo a dare nei dettagli ovviamente. Stasera siamo qui invece per dare inizio a questo tipo di attività. VIS scopre cinque aree di ricerca della scuola normale, qui avremo degli scienziati, i migliori scienziati italiani, che hanno fatto delle scoperte importanti recenti, che vengono qui e ci racconteranno la scoperta che ha cambiato la loro vita. Questa è la cosa importante e su cui mettiamo un accento molto forte. Queste non sono propriamente conferenze di divulgazione scientifiche, ma sono conferenze di divulgazione della ricerca scientifica, cioè cosa vuol dire fare ricerca e quindi anche una parte di tutto quello che normalmente la scienza non racconta. In particolare, se voi volete sapere qualcosa sul bosone di Higgs, forse andate su internet e trovate migliaia di pagine, ma nessuna di queste vi dice quello che vi racconterà oggi il professor Rolandi e a questo punto lo devo introdurre. Il professor Rolandi è un carissimo collega anche della scuola normale che ha studiato qui, poi è stato all'Università di Trieste per un certo periodo e da un po' di tempo lavora al CERN, quindi si occupa della parte della fisica sperimentale delle alte energie, quindi è un senior scientist al CERN a Ginevra. Ha fatto moltissimo lavoro relativo ai rivelatori di particelle ed è un esperto in questo campo, ma non solo, poi ha anche analizzato i dati, come vi racconterà, di questi esperimenti ed ha contribuito in maniera molto sostanziale al team che poi ha prodotto la scoperta del bosone di Higgs di cui stasera ci racconterà. Lascio subito la parola al professore, però ricordando che l'evento di stasera non si conclude alle 7, quando abbiamo chiesto al professore di terminare incluse le domande, perché alle 7 ci sposteremo in biblioteca, nella biblioteca di scienze, in Palazzo del Capitano qui vicino, dove abbiamo raccolto dalla nostra biblioteca dei testi fondamentali che abbiamo, dei veri tesori che la nostra biblioteca ha, che hanno a che fare con il tema della conferenza. Questa unione tra la conferenza e la visita guidata alla biblioteca sarà una costante di tutte queste conferenze, si terranno ogni secondo mercoledì del mese. Vi preannuncio che già la prossima sarà il 9 aprile e sarà in cosmologia. Quindi alla fine della conferenza, per chiunque di voi sia interessato, organizzeremo una specie di carovana che ci porterà al Palazzo del Capitano, dove ci aspettano i bibliotecari della Scuola Normale, che in questa occasione ringrazio anche per la collaborazione, che ci illustreranno dei tesori nascosti della biblioteca, della scuola, ovviamente nell'area della fisica, che è il tema di oggi. Lascio qui la parola al professor Rolandi. Grazie Andrea, grazie a tutti voi di essere qui oggi. Per me è un grande onore inaugurare questo ciclo di conferenze e vado subito in argomento. Diciamo, questa è un'immagine di Joseph John Thompson, che nel 1897 scoprì l'elettrone. L'elettrone è la prima particella puntiforme, veramente elementare, scoperta, e fu uno shock per il mondo della fisica in quel periodo, perché è una particella che pesava più di mille volte meno di tutte le altre particelle conosciute in quel momento. Però era una ricerca fatta in ambiente scientifico, con risonanza, ma non risonanza come può avere oggi una scoperta, ma chiaramente arrivò anche la regina Vittoria, che andò a visitare il laboratorio di Thompson e chiese a Thompson a che serviva questa scoperta. E Thompson rispose in maniera politicamente corretta, dicendo che non servirà mai a nulla, ma se un giorno dovesse servire a qualcosa, il suo Parlamento saprà mettere le giuste tasse sui proventi e quindi alla fine questa scoperta porterà danaro alla corona. Chiaramente Thompson si sbagliava moltissimo, perché senza questa scoperta, la tris nipote della regina Vittoria, la regina Elisabetta, tra virgolette, non si sarebbe potuta gettare dall'elicottero durante l'inaugurazione dei giochi olimpici di Londra del 2012, perché non ci sarebbe stata senza l'elettrone la tecnologia necessaria per far volare questo elettrone, questo elicottero e per trasmettere queste informazioni in tutto il mondo. La scoperta dell'elettrone fu solo la prima di una grandissima serie di scoperte che ho mostrato in questo plot. Vedete, qui sono scoperte che hanno portato alla nostra conoscenza attuale del mondo microscopico e qui l'anno in cui queste scoperte sono state glorificate con un premio Nobel e ho elencato qui i premi Nobel italiani, Fermi, Segre e Rubia, Rubia e Fermi, allievi della scuola normale, e ho elencato anche qui l'ultimo premio Nobel dell'anno scorso, il dato per la scoperta del bosone di Higgs. E questi, noi abbiamo capito, conosciamo oggi moltissimo del microcosmo, tutti quanti voi sapete che la materia è fatta di atomi, gli atomi hanno al centro un nucleo, il nucleo è fatto di protoni e neutroni, e probabilmente tutti quanti anche sapete che i protoni e i neutroni non sono puntiformi, esistono delle particelle all'interno di questi protoni e neutroni che si chiamano quark, e la cosa strabiliante è che questi quark formano tutto l'universo. Nell'universo ci sono 10 alla 80 quark, tutti identici, e che si sono formati nei primissimi momenti di vita dell'universo. Lo studio di queste particelle e tutti questi progressi è stato possibile grazie alle macchine acceleratrici. In questo plot voi vedete, in funzione dell'anno, qui non si legge male, ma in 1930, fino agli anni di oggi, l'energia massima raggiunta con le macchine acceleratrici legate al progresso tecnologico nella costruzione di questi strumenti. Questa è la prima macchina acceleratrice di Lorenz, che stava nel palmo di una mano, e questo qui è il gigante LHC, 27 km di circonferenza nel sottosuolo di Ginevra. E man mano, crescendo le dimensioni con le nuove tecnologie, abbiamo esplorato la materia sempre a energie più elevate. Ma cosa fa una macchina acceleratrice? Accelera i protoni, per esempio, e nell'urto di un protone contro un altro protone si concentra tantissima densità di energia, cioè moltissima energia in poco spazio. Più è accelerata la particella, più energia riesco a concentrare in poco spazio, e questa energia può essere utilizzata per formare nuove particelle, con massa M, secondo la relazione di Einstein, nota a tutti quanti. In questo brevissimo film, che durerà 40 secondi, vi mostro un cartoon delle collisioni di protoni. Siamo nell'LHC, questi qui sono i tubi che coprono i magneti dell'LHC, si passa la frontiera con la Svizzera e la Francia, i protoni sono accelerati, questo qui è un protone, questi qua i quarki colorati all'interno di un protone, questi protoni collidono contro un altro protone che viene dall'altra parte, al centro di un grosso apparato sperimentale, grande quanto questo palazzo, e collidendo producono nuove particelle in un tempo brevissimo e attraversano, nell'ordine del miliardesimo di secondo, attraversano il rivelatore e vengono misurati con precisione micrometrica da questo rivelatore, che praticamente potete immaginare come un'immensa macchina fotografica capace di misurare queste traiettorie con una precisione a livello di qualche decina di millesimi di millimetro. Il progresso, però, che vi ho raccontato adesso in pochi secondi, dal 1935 fino al 2000, del 2015, non è stato istantaneo. E con l'avvento delle macchine acceleratrici, queste particelle venivano prodotte in grande numero. E non si capiva. C'era un diluvio di altre particelle elementari che si manifestarono con le collisioni delle prime macchine acceleratrici, Mesoni, Peroni. Invece che essere premiato con un Nobel, lo scopritore di una nuova particella elementare dovrebbe essere punito con una multa di 10.000 dollari. Perché non si capiva. C'erano tutte queste particelle, c'erano molte teorie, molte possibilità di capire questo zoo che veniva fuori, ma non si capiva. Non si capiva e io quando nel 73 allievo della scuola decisi di studiare questo tipo di fisica si brancolava abbastanza nella nebbia nel catalogare e capire questa moltitudine di particelle. In effetti forse è stato proprio per questo che mi ha spinto verso queste ricerche insieme al fatto di aver conosciuto Lorenzo Foa, un giovane entusiasta assistente di 35 anni della scuola normale che mi aveva affascinato con le sue idee. E quindi ho cominciato a lavorare in questo campo. E sono stato fortunato, perché nel 1974 è stato un anno di rivoluzione. Praticamente nel 1974 è stata scoperta in due esperimenti diversi, contemporaneamente, o quasi contemporaneamente, da Sam Ting e da Bart Richter, una nuova particella che ha mostrato l'esistenza di un nuovo quark, il charm. La forza di questa scoperta è che il quark charm era stato già previsto e ipotizzato dal modello di Glescio, Iliopolis e Maiani e questa scoperta essenzialmente portò all'accettazione da parte della comunità scientifica del modello a quark fatto nel 1964 da Gelman e Zweig. E contemporaneamente c'erano stati gli esperimenti a Slack che avevano mostrato che il protone non era puntiforme. Quindi diciamo nel 1974 la gente incominciò a credere ai quark. Cioè quando Lorenzo Foa, Italo e Mannelli mi hanno insegnato la fisica delle particelle non hanno nominato la parola quark. E nel 1975 si parla per la prima volta di esperimenti sulla ricerca del bosone di Higgs che sino allora è una sorta di teoria di nicchia. C'è questo articolo del 1975 di John Ellis, Mariché, Gaillard e Nanopoulos che conclude con questa frase Ci scusiamo con i nostri colleghi sperimentali per non avere idea quale sia la massa del bosone di Higgs. Per questo motivo non vogliamo incoraggiare grossi sforzi sperimentali in questa direzione dell'EHC ma vogliamo avvisare gli sperimentali che fanno esperimenti vulnerabili al bosone di Higgs che potrebbe apparire nei dati. E che cos'è il bosone di Higgs? Partiamo un po' alla larga. Nel corpo umano ci sono 10 alla 26 quark e 3 in 10 alla 25 elettroni. Grazie al meccanismo di Higgs essi hanno massa e possono formare con le forze che li legano gli atoni e le molecole che costituiscono il nostro corpo. E quindi spostiamo la domanda dal bosone di Higgs cos'è il meccanismo di Higgs? Cos'è il meccanismo di Higgs? Bene, per spiegarvi il meccanismo di Higgs in termini sicuramente non esatti e spero che Riccardo Barbieri mi perdoni di questo voglio usare la seguente immagine. Se io vi dico immaginate di fare qui il vuoto voi immaginate di mettere un volume di pigliare una pompa di estrarre tutte le molecole dell'aria a un certo punto avete estratto l'ultima molecola non esiste una pompa reale che può fare questo però concettualmente immaginate che avete estratto l'ultima molecola e avete fatto il vuoto questo vuoto, vuoto, non c'è niente. E in effetti non è così non è così perché quando guardo sulla materia su dimensioni molto piccole la nostra visione classica smette di valere e quello che invece descrive bene è la meccanica quantistica e nella meccanica quantistica valgono leggi non uguali a quelle della meccanica classica questo qui è una simulazione al computer di un piccolo cubetto di vuoto di vuoto dove non c'è nulla di dimensioni di 3 in 10 alla meno 13 mm di lato e in questo vuoto è pieno di fluttuazioni quantistiche di particelle che nascono e muoiono a una frequenza molto elevata e queste sono le fluttuazioni di energia in un cubo che non contiene materia nel senso come lo intendiamo noi ma che contiene materia istantaneamente che compare e sparisce di solo 3 in 10 alla 13 mm di lato e le particelle interagiscono con questo vuoto questa qui è una particella che interagisce col vuoto e interagendo col vuoto acquistano massa cioè quel vuoto fra virgolette frena le particelle una particella poco massiva interagisce poco con il vuoto una particella molto massiva interagisce molto con il vuoto e viene frenata di più e quindi questo è il meccanismo di Higgs Braut-Engler il fotone che non interagisce col vuoto attraversa indisturbato e viaggia alla velocità della luce se le particelle non interagissero col vuoto viaggerebbero tutte alla velocità della luce quindi questa qui è la congettura del meccanismo proposto da Braut-Engler-Diggs e come si fa a provarla? la loro ipotesi prevede che questo vuoto interagisce anche con se stesso e oscilla e oscilla con frequenze tremende 10 alla 26 volti al secondo 100 milioni di miliardi di oscillazioni al secondo questo qui è François Engler Peter Higgs e Robert Braut e se in uno scontro di protoni immettiamo abbastanza energia al momento giusto possiamo materializzare queste oscillazioni e creare il bosone di Higgs quindi io facendo scontrare due protoni riesco a immettere nel vuoto energia reale e materializzare il bosone di Higgs quindi questo è il modo pratico di farlo con l'acceleratore ma perché il bosone di Higgs è importante perché tutto quello che ci circonda come il bellissimo palazzo della carovana esiste grazie appunto al meccanismo di Higgs, Braut e Engler e all'interazione delle particelle con il vuoto senza di esso noi saremmo così tutte le particelle si muoverebbero senza massa alla velocità e alla luce non ci sarebbero gli atomi non ci sarebbe il palazzo della carovana non ci sarebbe la biologia non ci sarebbe questa stanza e non ci saremmo noi qui a parlare quindi è importante capire effettivamente come le particelle erano massa e all'inizio degli anni Ottanta era chiaro che per materializzare il bosone di Higgs bisognava concentrare l'energia di molti jeff nelle collisioni la nuova macchina del CERN l'acceleratore LEP era in costruzione in un nuovo tunnel di 27 km lo stesso tunnel che oggi ospitava l'HC stiamo negli anni Ottanta gli esperimenti gli esperimenti previsti per questa macchina erano di una complessità molto superiori a quelli precedenti e richiedevano un grosso numero di fisici per poter essere realizzati quindi partirono la formazione di queste grosse collaborazioni internazionali e a quel tempo Jack Steinberger fisico del CERN e futuro premio Nobel propose a Lorenzo Foix di unirsi con il gruppo di Pisa a una collaborazione di molti istituti europei e americani e dopo una riunione di gruppo che ricordo ancora bene molto vivida decidemmo di accettare l'offerta perché non decidemmo subito istantaneamente perché era un cambiamento importante del modo di vita fino allora noi facciamo gli esperimenti in una decina di persone tutti quanti amici che ci conoscevamo nello stesso laboratorio e si parlava si usciva in un ufficio se andavamo nell'altro ufficio dover fare un esperimento in varie centinaia di persone da tanti posti nel mondo era qualcosa che noi riuscivamo a capire avevamo due grosse challenge da una parte fare dei rivelatori assolutamente nuovi e mai realizzati prima e dall'altra parte trovare un modo diverso per lavorare che non sapevamo com'era dovevamo inventarci il metodo e questa qui è la lettera firmata da Friedrich Didac con cui si convoca la prima riunione di quello che poi diveniva la collaborazione ATLAS vedete CERN Dortmund Heidelberg MPI Mon Munich Orsay Pisa e Saclay questo era il nucleo iniziale e poi alla fine diventerono qualcosa come un 25 istituti per un totale di circa 400 persone questa era una lettera una lettera inviata col franco bollo nella posta era un altro mondo non c'era il web non c'era si comunicava col telefono e quindi capite la difficoltà di immaginare come si lavora con qualcuno che sta a Monaco con qualcuno che sta al CERN è tutta una cosa nuova e giusto per darvi l'idea per lavorare in maniera collaborativa ora a Trieste in quel periodo ogni domenica sera tutte le domeniche tranne qualcuna poche nell'anno prendevo il treno da Trieste per Ginevra partiva alle 10 e mezza di domenica sera e arrivavo a Losanna alle 4 e mezza di mattina andavo nel caffè aspettavo le 6 e alle 6 pigliavo il treno per Ginevra il martedì sera facevo il tragetto al contrario e arrivavo a Trieste alle 10 e alle 12 ero a insegnare all'università questa è la collaborazione Aleph come era nel 1986 qui c'è Lorenzo qui c'è Francesco Fidecaro l'altro allievo della scuola qui ci sono io qui c'è Jack Steinberger c'è molta scuola normale e molta Pisa in questa fotografia e questa qui era una delle riunioni di gruppo che facciamo in laboratorio con Jürgen Mai che dirigeva il progetto su cui io lavoravo era essenzialmente uno interagiva con decina quindicina di persone come prima però queste persone erano dislocate nel mondo e quindi la comunicazione era difficile e poi avvenne il miracolo il modo di lavorare la scienza collaborativa di centinaia di persone che avviano improvvisamente con l'avvento del World Wide Web che fu messo a punto al CERN per facilitare lo scambio di informazioni in queste grosse collaborazioni internazionali e io mi ricordo ancora quando facendo un primo collegamento da Trieste a Ginevra riuscì miracolosamente dal mio computer a cambiare il voltaggio di uno strumento che avevo a Ginevra era una fantascienza oggi è una cosa che sembra di tutti i momenti e questo il quanto il web ha cambiato la società non devo certamente descriverlo e in quel momento c'erano sei collaborazioni internazionali che preparavano progetti per il lab e solo quattro zone sperimentali bisognava quindi arrivare con il progetto più competitivo per essere approvati c'era il comitato scientifico che era presso da Gunther Wolff un famoso fisico tedesco Aleph aveva scelto un progetto innovativo basato su un tipo di rivelatore nuovo inventato a Stanford da Dave Nygren chiamato Time Projection Chamber questo è un rivelatore molto difficile in cui uno pretende di far camminare degli elettroni per circa due metri conoscendo la loro posizione al meglio di 100 micron quindi ci vuole un controllo molto preciso di queste traiettorie e purtroppo otto mesi prima della decisione del comitato scientifico dell'EPE arrivano al CERN le prime indiscrezioni che la TPC di Elegre non funzionava bene e quindi c'era un momento di pericolo per il nostro esperimento perché era basato su questa tecnologia e assieme a Francesco Ragusa iniziai uno studio teorico dettagliato del moto degli elettroni nei gas sotto influenza dei campi elettrici e magnetici e in questo gruppo qui c'è il Francesco Fidecaro qui c'è Roberto Mendolia anche lui studenti della scuola in questo gruppo mettevamo insieme velocemente un esperimento e quando arrivò l'ultimo pezzo un laser che serviva per ionizzare all'interno di questo strumento passai assieme al Francesco Ragusa tre giorni e tre notti in laboratorio a fare misure e questo plot adesso non vi descrivo cos'è però essenzialmente le nostre predizioni erano queste curve in assolute e questi qui erano i dati sperimentali fu una gioia particolare ma principalmente avevamo capito perché non funzionava la TPC di Elegre a Slack e avevamo una proposta che superava questo problema e quindi tornava tutto e potevamo affrontare con più serenità l'esame del comitato scientifico la scienza collaborativa in Aleph Jack Steinberger fondatore di Aleph e premio Nobel 1988 è una personalità veramente particolare una personalità forte una personalità aperta una personalità molto carismatica e lui è riuscito a improntare lo spirito della collaborazione Aleph come quello di una grande famiglia essenzialmente in riunioni più piene di questa stanza con tanti fisici ognuno con le sue idee lui faceva parlare si discuteva e poi alla fine indicava la strada dove andare ma non in maniera impositiva ma semplicemente la gente poi era d'accordo con lui e questo spirito questo modo di fare questo modo in cui l'individuo metteva avanti il risultato della collaborazione prima di se stesso fu una caratteristica di Aleph non tutte le collaborazioni erano così ma Aleph era proprio una grande famiglia si lavorava bene si sentiva a casa e produceva bene per il bene comune e il lab ha funzionato all'89 al 2000 ha prodotto una serie di incredibili risultati di fisica glorificando con una precisione di poche parti su mille il modello standard della fisica delle particelle e abbiamo ricercato il bosone di Higgs però senza successo in questo plot è mostrato quello che noi abbiamo capito nel bosone di Higgs in funzione del tempo vedete in funzione del 96 97 98 99 cosa succedeva aumentavamo l'energia della macchina aumentando l'energia della macchina eravamo sensibili sempre a bosoni di Higgs più pesanti e quindi qui avevamo escluso che il bosone di Higgs avesse 80.5 e GeV qui avevamo escluso che il bosone di Higgs avesse 91.5 qui 96 qui 100 fino a arrivare qui abbiamo escluso che il bosone di Higgs aveva una massa inferiore a 114.3 GeV perché non siamo andati oltre? perché la macchina era piena di cavità acceleratrici non era fisicamente possibile accelerare gli elettroni dentro il LEP a energia più alta ed abbiamo sperato questo qui è il plot finale del LEP il bosone di Higgs doveva apparire come un eccesso di eventi in questo ultimo punto qua e ne avevamo tre questi tre ci avevano fatto sperare ma non erano abbastanza e nel 2000 nel 2000 venne chiuso il LEP queste frasi le ho preso da un articolo di stampa specializzata sul web e dice dopo un prolungamento di circa due mesi rispetto alla data prevista l'8 novembre scorso il direttore generale del SER Luciano Maiani ha pronunciato la sentenza definitiva il LEP chiude ma non senza qualche rimpianto perché in una sorta di canto del cigno negli ultimi due mesi di vita spinto fino a raggiungere un'energia di 209 jeb LEP ha consentito ho aggiunto io forse di osservare le tracce del bosone di Higgs la particella elementare che da parecchi anni ormai sfugge ai ricercatori che ne danno la caccia la questione di continuare o meno degli esperimenti LEP è stata discussa in diversi comitati consultivi LEP C Research Board Comitato di Politica Scientifica come in tutte le buone cose ministeriali in cui si manda si demanda si demanda però alla fine nessuno decideva e ha dovuto decidere Luciano Maiani e non c'è stato un consenso unanime e Luciano Maiani ha chiuso il LEP nel 2000 con una serie di polemiche e di dispiaceri incluso quello del sottoscritto però alla fine a posteriore aveva ragione e tutto aveva puntato sul nuovo challenge il nuovo acceleratore LHC la nuova sfida tecnologica vedete qui uno dei 2000 magneti installati oggi sull'LHC e questo signore che sta saldando una delle 100.000 connessioni superconduttrici che ci sono fra i vari magneti dell'LHC e quindi partiva questa nuova sfida e contemporaneamente all'LHC era importante creare gli strumenti di calcolo in grado di analizzare i dati prodotti dell'LHC LHC produce petabyte di dati ogni anno giga tera peta se lo mettesse su cdi fareste qualche torre Eiffel tutti gli anni e non c'era al mondo un computer singolo capace di analizzare tutti questi dati per cui si è dovuto creare la grid uno strumento che collega fra di loro in maniera trasparente tutti quanti i computer diciamo 100.000 computer di 34 paesi con linee ultraveloci e che ha permesso di analizzare i dati dell'LHC ma anche un grosso salto in scienza collaborativa gli esperimenti Atlas e CMS sono immensi in ognuno di essi lavorano circa 3.000 scienziati e ingegneri a 2.200 università e da circa 40 paesi quindi un salto di un fattore 10 più in alto di scienza collaborativa rispetto a quello che era Aleph io dal 2000 al 2005 ho diretto la costruzione del rivelatore centrale di tracce dell'esperimento CMS una sfida formidabile ricostruire in 25 miliardesimi di secondo le migliaia di tracce prodotte dalle molteplici interazioni dei protoni di LHC con precisioni micrometriche in questo disegno vedete i vertici delle varie interazioni dei protoni che arrivano contemporaneamente e un ingrandimento questa dimensione qui sarà un paio di millimetri delle tracce ricostruite e questo qui sono ancora visioni più allargate degli stessi eventi cosa vuol dire fare questa costruzione vuol dire che io per 5 anni ho smesso di fare il fisico io ero il manager di un'industria di circa 700 persone un budget di circa 90 milioni e ho dovuto interagire con industrie tipo IBM Amamatsu per riuscire a piazzare contratti milionari per riuscire a produrre assieme all'industria tutti gli strumenti particolari che non esistevano prima abbiamo dovuto inventare da zero un modo di poter costruire questo esperimento quindi ho fatto il manager di industria per anni non sono andato alle conferenze di fisica e ho fatto un manager di industria particolare perché io non avevo il controllo di tutte queste 700 persone queste qui erano i 40 istituti che partecipavano a fare il tracker ognuno con i suoi interessi locali con le sue tesi da fare con la sua necessità di visibilità locale quindi un lavoro assolutamente non banale in cui uno sul piatto mette semplicemente il proprio potere personale il proprio carisma e la propria capacità di convincimento e il concetto di un bene comune che poi alla fine fa convergere tutte queste operazioni e questo progetto per darvi un'idea richiedeva la costruzione di 16.000 moduli di silicio l'elettronica associata la struttura in fibra di carbonio per sostenere tutto il software necessario al controllo la lettura della ricostruzione delle tracce 200 metri quadrati di silicio il rivelatore più grande fatto prima ne aveva due quindi è stato veramente inventarsi tutto da zero come poter fare questa cosa e questo qui sembra un albero di Natale era Natale del 2007 si mi ricordo bene e questo è il tracciatore che alla fine entra dentro l'esperimento CMS tenete presente che questo qui è un pezzo unico ci sono voluti dieci anni fare progetto e costruzione e stavo portato di notte dalla camera pulita dove era stata costruita all'esperimento viaggiando a due chilometri all'ora per ridurre al massimo le vibrazioni e capite che se un piccolo incidente capitava nel trasporto uno buttava al mare il lavoro di migliaia di persone sono irrecuperabili incidenti del genere quindi doveva funzionare come mandare una navicella sullo spazio lo stesso tipo di difficoltà e poi dal 2005 al 2009 ho seguito i miei studenti e collaboratori nella preparazione dell'analisi date cioè sono tornato a rifare il fisico e mi sono preoccupato di come fare scienza collaborativa in 3000 persone questa è un'impresa non banale cioè intanto sull'LHC sono due esperimenti quindi c'è una competizione chi arriva prima a dare il risultato però questo risultato deve essere un risultato non solo esatto ma condiviso e io devo avere a bordo prima di emanare un risultato l'accordo di tutte queste persone e come si coniugano insieme migliaia di individualità creative e l'efficienza in raggiungere il risultato prima della concorrenza? questa è una bella domanda come si approva un risultato prima di renderlo pubblico in modo che tutti i 3000 affizi di CMS possano commentare e se ne sentono e se ne sentono quindi alla fine i proprietari bene quindi ho passato parecchio tempo a capire come formalizzare la condivisione e l'approvazione di un risultato di fisica a parte dell'esperimento una sorta di legiferazione insomma di stabilire il metodo e ho costruito tutti i tool collaborativi sul web che permettevano di fare questo processo in un tempo finito in effetti l'abbiamo provato prima che partissero le collisioni e ha funzionato molto bene CMS è riuscito a pubblicare subito a differenza agli altri esperimenti in maniera seamless per anni fino ad oggi abbiamo pubblicato più di 300 articoli nell'autunno del 2009 l'HC ha cominciato la sua campagna di collisione è un'energia mai creata in laboratorio questo è importante mai creata in laboratorio vuol dire che io sorpasso una soglia che riesco ad arrivare a un livello di esplorazione della natura che non ho mai fatto prima e molto velocemente possono apparire fenomeni nuovi e sul mercato c'erano molti fenomeni nuovi che potevano apparire che potevano apparire sull'HC di conseguenza la gran parte della forza e lavoro dell'esperimento era nel fare analisi dei dati per cercare questi fenomeni nuovi che dovevano comparire con poche collisioni e per esempio c'erano gruppi che studiavano supersimmetria che è un modello in cui tutta la materia conosciuta a un partner detto supersimmetrico oppure a modelli molto affascinanti in cui il nostro universo ha dimensioni oltre quelle le tre dimensioni che conosciamo e il tempo e anche altre dimensioni nascoste tutte teorie affascinanti che era possibile vederle con poche collisioni tenete presente che una macchina normalmente nel passato nella storia passata le macchine sono arrivate a dare quello che si chiama luminosità cioè il numero di collisioni al secondo di disegno dopo 4-5 anni per cui tutta la collaborazione era concentrata a guardare cose che si potevano vedere a bassa luminosità con poche collisioni questo non è il bosone di Higgs il bosone di Higgs è una cosa rarissima ci vogliono tantissime collisioni per poter affrontare in maniera significativa la ricerca del bosone di Higgs e quindi il bosone di Higgs non era sul carnet all'inizio del 2010 fra gli esperimenti che noi volevamo fare però all'inizio del 2010 l'HC ha funzionato in maniera assolutamente fantastica cioè ha riuscito a produrre velocemente un numero di collisioni a un ritmo almeno 10 volte più grande di quello previsto e quindi era forse possibile aprire anche la caccia al bosone di Higgs forse sì forse no cioè con 10 volte più collisioni di quello previsto forse era possibile e la collaborazione non era preparata a questo tutti gli sforzi ricerca erano indirizzato analisi più immediate da farsi con poche collisioni io in quel periodo coordinavo tutte le analisi di CMS e quindi dovevo dirottare le forze su questo nuovo fronte affascinante e imprevisto ma anche una scommessa perché tutti i gruppi volevano continuare a guardare una possibile scoperta di supersimmetria o una possibile scoperta di un qualche fenomeno nuovo e quindi nel 2010 a settembre la CMS wikiab nella riunione importante che facciamo una volta all'anno nel settembre 2010 in quel momento lavoravano sulla ricerca e l'Higgs non più di 20 fisici di CMS e ho chiesto a Vivek Sharma che si occupava direttamente di queste analisi di fare una presentazione motivante per riorganizzare le truppe in vista della campagna dell'anno successivo e questo trasparente qui del pinguino che sveglia il leone è il trasparente primo Vivek Sharma voleva svegliare la collaborazione e concentrarla sul bosone di Higgs e in effetti riuscimmo a fare questo e nel luglio 2011 avevamo raccolto un phantom Barniverso e andammo alla conferenza dell'European Physics Society a Grenoble con dei risultati pronti e mostrati in questo plot in questo plot cosa si vede? diciamo il fatto che questi dati coincidano con questa linea verde vuol dire che non abbiamo visto un bosone di Higgs in questo intervallo di massa il fatto che questi dati qui siano vicino a 1 in eccesso alla linea gialla vuol dire che forse lì potevamo c'era speranza di vedere qualche cosa del tipo bosone di Higgs però l'effetto non era eclatante ed era veramente molto importante capire cosa aveva visto Atlas io non sapevo cosa aveva visto Atlas lì si è in una conferenza e c'era questo plot di CMS mostrato e aspettavo che il speaker di Atlas mostrasse il suo plot e questo era il suo plot anche loro avevano un eccesso in questa regione intorno a 140 gem veramente significativo però non sufficiente per poter dichiarare una scoperta e ricordo bene in quella conferenza la stampa che veniva a intervistare la gente a me e alle altre persone che stavano in giro e volevano farci dire che avevamo scoperto il bosone di Higgs però diciamo secondo gli standard scientifici c'era un un vago eccesso ma non era significativo da poter dire che avevano fatto una scoperta però l'HC continuava a funzionare benissimo e noi ci preparavamo per un seminario di sei mesi dopo il fine anno al CERN in settembre l'HC continua a superare se stesso noi godiamo e soffriamo godiamo perché abbiamo tanta luminosità e quindi effettivamente questa ricerca del bosone Higgs può essere portata in fondo soffriamo perché gli eventi con l'alta luminosità sono di una complessità tale che il nostro sistema di computing non ci sta presto non ci sta presto avevamo un piano per poter seguire questi aumenti ma gli aumenti sono troppo veloci e quindi facciamo un cambiamento questo cambiamento porta a ritardo di 4 mesi insomma alla fine tirando i denti siamo riusciti a usare i computer fino all'ultimo all'ultimo all'ultima potenza possibile e siamo arrivati nel frattempo si cominciano a vedere i primi risultati al CERN nei corridoi si sentono in discrizione che Atlas ha qualcosa noi non avevamo qualcosa aveva un poco però Atlas aveva qualcosa quindi sono arrivato a questo seminario di nuovo in un auditorio gremito di gente e è uscito questo plot Atlas aveva questo plot cos'è? la probabilità che un certo segnale visto sia compatibile con come si dice con un falso se questa probabilità è molto piccola qui vuol dire 10 alla meno 4 vuol dire che c'è un segnale la nostra convenzione si dice che c'è un'evidenza quando questo picco va sotto 3 sigma Atlas aveva un'evidenza di un bosone di X 125 jeff e noi e noi no noi avevamo solamente 2 sigma e mezzo però ha la stessa massa è chiaro che se uno combina questo e questo c'è un'evidenza molto più importante la comunità dei fisici alla fine di questo riunione era convinta che esisteva il bosone di X a 125 jeff Atlas era stato fortunato aveva preso più eventi di quelli che dovevano arrivare in quel periodo di tempo in cui aveva preso dati però succede comunque l'uscita di questo seminario era tale che c'era un auditorio gremito di gente e tutti quanti erano convinti che avevano trovato il bosone di X a 125 jeff però non abbiamo annunciato la scoperta perché la scoperta si annuncia quando questo picco arriva a 5 sigma ci volevano altri dati ci volevano altri dati e c'era una decisione politica di dire annunciamo la scoperta quando entrambi gli esperimenti arrivano a 5 sigma scienza collaborativa in CMS CMS è una collaborazione di circa 170 istituti con una forte presenza americana e un budget di operazioni di 15 milioni di anni è governato a un management board e a un parlamento con una rappresentante per istituto quindi con 170 rappresentanti che si chiama collaboration board il collaboration board elege il CIF executive officer che in gergo si chiama spokesperson che resta in carica per due anni è un altro mondo rispetto a Aleph Aleph è una famiglia qui è un qualche cosa dove ci sono interessi politici interessi finanziari molto importanti e quindi bisogna procedere con delle regole che tengono in conto anche la politica gli interessi nazionali e le cose così io mi ero presentato per le elezioni a Spokesperson nel 2011 ma nel luglio 2011 il collaboration board è l'essere Spokesperson Joe Candela dell'Università di Santa Barbara e quindi per me è stato un momento complicato è stato un momento in cui avevo sentimenti contrastanti perché chiaramente la stella è sempre la scoperta è sempre la fisica però d'altra parte è anche uno a piacere di se compete evidentemente vuole anche vincere e quindi avevo un po' di sentimenti contrastanti ma dal dal primo di gennaio del 2012 io sono tornato a fare in CMS il privato cittadino cioè a seguire i miei studenti tutti i giorni spero con loro beneficio e a occuparmi di CMS in maniere non menageriale centrali e questo qui è un trasparente dell'annuncio al CERN del 4 luglio del 2012 della scoperta del bosone di Higgs cioè quando entrambe le collaborazioni avevano raggiunto quelle famose 5 sigma che avevo notato qui vedete la Fabiola Gianotti la spokesperson di Atlas l'altro esperimento qui Joan Candela spokesperson di CMS il direttore del CERN Sergio Bertolucci che è il direttore di ricerca italiano del CERN e qui nell'audience adesso non so esattamente dove volevo indicare Giovanni Petrucciani perché Giovanni Petrucciani che è un allievo della scuola ha discusso qui il dottorato forse una delle prime tesi fatte sul bosone di Higgs ha giocato un ruolo centrale sulla ricerca del bosone di Higgs dovete pensare che qui siamo tantissima gente ma il lavoro vero quello fanno i ragazzi come sempre e quindi gente come Giovanni ha avuto veramente un ruolo particolare e diciamo chiaramente il bosone di Higgs ha scoperto il bosone di Higgs è stata pubblicizzata nella stampa in maniera assolutamente centrale grandissima risonanza tutti voi sapete cos'è il bosone di Higgs e la stampa ha certe volte delle esigenze che sono diverse da quelle delle collaborazioni o dell'avanzamento in scienza la stampa cerca la notizia la scienza è cauta nel dare la notizia la scienza vuole dare la notizia quando è certo la stampa cerca il titolo della grande scoperta ricordate il neutrino Einstein si è sbagliato e il per come siamo organizzati tutte le scoperte sono collaborative cioè tutti partecipiamo alla scoperta la stampa cerca la vedette cerca di assegnare alla singola persona questo effetto e quindi ci sono chiaramente sentimenti contrastanti come sono viste queste cose Fabiola Gianotti ha avuto la copertina del Times e diciamo questo qui è stato vissuto a moltissimi come un evento bello perché Fabiola ha la personalità giusta per vivere queste cose in questa maniera cioè Fabiola è una che ha sempre saputo mettere la collaborazione avanti a se stessa è sempre qualcuno che ha fatto sempre chiaro che il il lavoro non era un lavoro suo ma era un lavoro fatto da tantissima gente messa insieme e Fabiola ha ricevuto una parte del premio Milner e questo premio Milner è stato dato da Fabiola alla collaborazione per mettere borse di studio per i giovani ricercatori non tutti hanno fatto così e questo ha creato una tensione un po' nell'ambiente e che diciamo è frutto della storia è frutto delle cose bene no perché metto una parola in mia barca io non ho finito non ho finito fatemi finire con una cosa di fisica noi abbiamo misurato che la massa è il bosone di Higgs a 125 GeV e qui è riportata la massa in un'altra particella che si chiama Top e vedete che la zona dell'universo dove noi siamo è qui proprio a livello fra una zona in cui l'universo è stabile e l'universo è metastabile cosa vuol dire metastabile? vuol dire che lo stesso meccanismo che ha fatto nascere questo vuoto particolare col bosone di Higgs quando l'universo era giovanissimo aveva una frazione piccolissima di secondo di vita si ripeterà di nuovo si ripeterà di nuovo con una scala di tempi dei prossimi 15 miliardi di anni cioè il nostro universo andrà secondo quello che è scritto in questo plot attraverso un'altra fase di transizione per cui le particelle a un certo punto si comporteranno in maniera diversa questo non arriverà domani mattina quindi non vi preoccupate ma succederà fra moltissimo e come ogni scoperta nascono nuove domande perché l'universo come lo conosciamo è proprio sulla regione di transizione fra stabilità e instabilità cioè è una regione particolare perché è proprio lì perché non è al centro della regione di stabilità quindi ogni scoperta fa nascere nuove domande e questa è la grande bellezza non decadente della fisica e la domanda che posso chiedermi alla fine della mia presentazione è il bosone di X cambierà la nostra vita? e io sarei tentato di rispondere come JJ Tom sono la regina vittoria ma penso che forse bisognerebbe delegare la vera risposta ai nostri pronipoti e capire che succederà fra 200 anni e che tipo di scoperte ci saranno grazie voglio ringraziare il professor Rolandi per la bellissima presentazione io sono Marco Svaldes sono il coordinatore del progetto VIS e veramente penso di parlare a nome di tutti coloro che collaborano in VIS che sono oltre 30 persone nel dire che non potevamo sognare un inizio più bello per questa serie di conferenze e voglio anche ringraziare tutti voi per essere qui e spero che parteciperete anche ai prossimi incontri e se ci sono delle domande per il professor Rolandi buonasera mi sono rimasto molto colpito del racconto della scienza collaborativa perché l'ha vissuto proprio in prima persona e una domanda è una constatazione mi piacerebbe che questo qui fosse un modello replicabile in tutta la società voi avete fatto un esperimento di collaborazione interessantissimo di collaborazione oltre che di fisica al di là della benedizione della fisica certamente certamente e diciamo ci sono sociologi che studiano questo comportamento tipo formiche che abbiamo in questi grandi esperimenti è un comportamento molto difficile perché diciamo ci sono industrie che hanno sicuramente più di 3.000 dipendenti però c'è una struttura verticalistica insomma normalmente il CEO ha il controllo del budget e può decidere come Marchionne di fare una cosa piuttosto che fare un'altra da noi lo spokesperson ha il controllo della sua capacità di convincere gli altri e giù così per i rami posso mi associo alla osservazione precedente e vorrei fare due piccole domandine una si rifà una frase che ha pronunciato poco fa quando ha detto che il bosone di Higgs è raro è una cosa rara mi chiedo perché sono solo esperimenti di altissima energia che riescono a evidenziarlo o è raro anche per qualche altro motivo questa seconda evenienza non mi giunge particolarmente facile da capire se è vero che il bosone di Higgs sta alla base della struttura più elementare della materia è quello che ho sentito dire fornisce in qualche maniera massa alle altre particelle normali quindi ci deve essere immagino l'universo praticamente pieno di bosoni di Higgs anche se forse non è facile farne saltare fuori qualcuno perché sono estremamente energetici la seconda domanda è una piccola curiosità rispondo alla prima così che non ci confondiamo lei ha colto perfettamente nel segno e questo mi riempie di gioia perché vuol dire che forse sono giusto a spiegare qualche cosa noi siamo pieni di bosoni di Higgs in questo momento in questa stanza ci sta un bosone di Higgs virtuali ce ne sono tantissimi la difficoltà è riuscirli a farli diventare reali e riuscire a concentrare sul bosone di Higgs al momento giusto l'energia necessaria perché il bosone di Higgs anche se è quello che dà la massa alle particelle diciamo è poco prodotto rispetto a altri fenomeni nelle scollisioni di protone per dire un numero in questa campagna dell'LHC avremo prodotto globalmente 200.000 bosoni di Higgs da comparare con milioni di miliardi di altri fenomeni presenti di eventi di tipo diverso posso una seconda piccola domandina se potesse fare un accenno un pochino più generale alla partecipazione pisana a questi esperimenti questa curiosità mi viene dalla coincidenza non programmata ma dovuta a eventi di calendario del fatto che oggi pomeriggio a Pisa c'è stata un'altra conferenza che aveva come tema il bosone di Higgs tenuta dal professore Tonnelli dell'Università di Pisa che anche lui ha partecipato a questi esperimenti io non ho potuto partecipare a quella conferenza a causa di impegni precedenti però immagino che ci sia stata una collaborazione abbastanza ampia tra i fisici e forse non solo tra i fisici sperimentali di Pisa a questa a questo grandissimo partecipazione all'esperimento non solo italiana ora diciamo la fisica italiana in generale la fisica italiana delle alte energie gestita dall'istituto nazionale fisica nucleare è una perla nel nostro panorama scientifico la presenza italiana al CERN è di gran lunga maggiore al suo finanziamento e i grandissimi fisici italiani hanno occupato posizioni importanti non a caso Fabiola Gianotti per esempio era spokesman dell'esperimento e quando io ero coordinatore di fisica Guido Tonnelli era spokesman dell'esperimento dove io partecipavo cioè era il mio capo in quel momento e la scuola di Pisa nata con Bellettini Braccini Foa e Bemporad ha partecipato a tutte le grosse campagne sperimentali della fisica delle particelle da allora non a caso Jack Stenberg chiamò Lorenzo Foa per lavorare in quell'esperimento perché fra i vari gruppi italiani il gruppo di Pisa è stato sempre uno dei più prestigiosi quel disegno che ho mostrato del tracciatore di CMS di una parte del tracciatore la barca mia mi piace assai questa parte interna del tracciatore che vedete qui che è una frazione di 200 metri quadri è stato interamente montato a San Piero Grado e pochi istituti di CMS hanno avuto la forza di poter creare un pezzo così importante in casa e poi portarlo al CERN cioè il livello della nostra scuola di Pisa si confronta con il gruppo dell'MIT col gruppo dell'università di Los Angeles cioè sono diciamo tra i primi cinque gruppi europei e probabilmente tra i dieci primi gruppi mondiali grazie c'è ancora una cosa che non capisco voi avete prodotto a CERN in questi ultimi anni miliardi e miliardi di particelle tutte massicce diciamo a parte i vari fotoni eccetera eccetera e soltanto qualche migliaia di bosoni di X ognuna di queste particelle dovrebbe in qualche maniera essere influenzata da qualche bosone di X o mi sbaglio quindi vi sono scappati miliardi e miliardi di bosoni di X oppure mi sbaglio c'è un punto importante c'è una differenza fra quello che si chiama particella bosone di X e quello che si chiama campo di X la congettura di X stabilisce che il vuoto non è vuoto nel senso classico ma è permeato da un campo e le particelle interagiscono con questo campo questo è quello che dà loro massa poi questo campo oltre che dare massa a tutte le particelle non è una cosa non è come la superficie del mare piana è una superficie completamente oscillante piena di onde e queste onde sono onde velocissime 10 alla 26 1 conseguito da 26 0 oscillazioni al secondo queste oscillazioni se io gli do una botta giusta al momento giusto posso materializzare un bosone di X quindi sono due cose molto collegate ma diverse fra di loro non c'è contraddizione il fotone il fotone per esempio non interagisce con il campo elettromagnetico perché non possiede carica il campo di X interagisce con se stesso quindi sono due cose completamente diverse il campo elettromagnetico non oscilla il campo elettromagnetico è un campo statico sta lì è una particella carica diciamo sente il campo magnetico il fotone che è quello che crea il campo magnetico non interagisce con il campo magnetico in quanto non è carico non è così il campo di X il campo di X interagisce con se stesso è diverso allora sì se non ci sono altre domande ringrazio ancora il professor Rolandi ringrazio tutti per essere qui come ha già detto all'inizio il professor Ferrara adesso c'è una mostra guidata alla biblioteca al Palazzo del Capitano e appunto sarà anche guidata dal professor Rolandi stesso da due dottorandi di fisica delle particelle con cui quindi potrete interagire e volevo anche dirvi che sul sito web che potete trovare anche sulle locandine all'ingresso sarà disponibile poi il video alla registrazione completa di questa conferenza in caso voleste riguardarla grazie a tutti grazie a tutti